Per due giorni Bari, capitale delle donne del vino, il capologo pugliese infatti il luogo scelto dalla Convention Nazionale dell'Associazione delle Donne del Vino per celebrare i 25 anni. Provenienti da tutta Italia, oltre 100 ambasciatrici del prezioso Nettare di Bacqua hanno trasformato la città in una kermesse ricca di eventi nell'ambito di Bari Wine Experience. Una manifestazione organizzata dalla Delegazione regionale dell'Associazione in collaborazione con eventi d'autore e il sostegno dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia. L'Associazione in realtà nasce nel 1988 e quindi oggi è una data comunque molto importante perché segna la chiusura dell'anno di questi, diciamo, non dico festeggiamenti perché non è la parola data, però, diciamo, di questi eventi che abbiamo avuto durante tutto, diciamo, su tutto il percorso nazionale, proprio a sottolineare l'impegno che le donne, produttrici, ristoratrici, enotecari, sommelier appartenenti all'Associazione, hanno profuso per la valorizzazione e la diffusione del vino di qualità. Donne chiamate a promuovere la cultura del vino in tutta Italia, donne rappresentanti dell'imprenditoria vitivinicola femminile, produttrici, ristoratrici, enotecarie, enologhe, sommelier e giornaliste, mossi dall'unanime passione del bere, ovviamente con moderazione, un vino infatti che va degustato e non ingurgitato, una vera e propria filosofia del buon bere. I lavori della convention sono stati aperti con il seminario Figlie delle Terre, il vino raccontato dalle donne. Location dell'evento è il prestigioso foyer del Teatro Petruzzelli, dove ospiti d'eccellenza si sono incontrati in un viaggio sensoriale tra calici e profumi del nettare, tra storie e femminile racconti di donne vissuti con la passione per il territorio e la cultura. Tra gli intervenuti, Licia Granello, una delle giornaliste enogastronomiche più famose d'Italia. Queste donne che io racconto in questo libro sono donne che fanno un sacco di cose contemporaneamente, come un po' tutte noi, ma sono donne che sono state in grado di inseguire un sogno e di raggiungerlo e di realizzarlo. Da oltre due anni ambasciatrice del vino italiano all'estero, in particolare in USA, Russia e Cina, Stevie Kim, managing director Vinital International, ha tenuto una vera e propria lezione su come promuovere il vino italiano in Cina attraverso l'utilizzo del web e dei social network. No, per troppo il vino italiano è poco conosciuto, cioè è molto conosciuto in America, Russia un po' di più, in Cina quasi zero. Per fare un po' un riferimento, tra i vini importati in Hong Kong, vino italiano 3%, vino francese 30%, circa, un decimo. In Cina, altrettanto, vino italiano circa 5-6%, vino francese 60%, quindi è poco conosciuto, c'è molto lavoro da fare. Un evento che non ha deluso le aspettative e che ha riscosso un grande consenso in termini di partecipanti e critica. La giusta occasione per esaltare la prima eccellenza italiana è il vino, che ha trovato spazio nel capologo pugliese tra appuntamenti con moda, food, con la cultura in una o due giorni in cui è stata coinvolta l'intera città, seminari, dibattiti, laboratori sensoriali, degustazioni, cooking experience, fashion wine experience, incontri d'autore tra l'arte del vino, l'arte della scrittura e l'arte del cinema.